E' atteso per sabato pomeriggio il primo giro di ruota con uno sguardo alto 35 metri rivolto alternativamente all'orizzonte adriatico o a scrutare il lungomare pesarese. Si sta infatti completando l'installazione della ruota panoramica collocata sui giardini della Palla di Pomodoro a pochi metri dalla passeggiata adiacente alla balaustra sugli scogli. I tempi di installazione dovrebbero prevedere l'attrazione già pienamente operativa in questo weekend. Il biglietto costerà 7 euro con riduzione a 5 euro per i bambini che consentiranno tre giri completi di ruota. Sarà una ruota panoramica più alta di 11 metri rispetto a quella che nel Natale 2019 venne collocata in largo Aldomoro. La nuova ruota di 35 metri resterà in città fino ad ottobre replicando un filone di attrazioni che già vide sullo stesso terreno la view tower panoramica alta 75 metri che rimase a Pesaro ben nove mesi fra il 2018 e il 2019 così come il ristorante sospeso Dinner in the Sky che replicò l'esperimento l'anno successivo.